è molto sfaccettato poi appunto è un'intelligenza artificiale, un robot e quindi è molto bello ma era già molto bello il fumetto di quello. Visto che la prossima domanda che gli abbiamo fatto è un confronto tra i supereroi Marvel e il mondo DC mettiamo in fila anche qualche cifra perché nove film della top 10 di quelli con i maggiori introiti sono Marvel che quindi ha il dominio assoluto del genere al cinema e solo Aquaman entra all'ottavo posto per quanto riguarda la DC Comic ma se si considera il ritorno dell'investimento fatto invece sulla produzione al cinema abbiamo Joker che balza al primo posto perché ha avuto come abbiamo già detto e raccontato nella puntata dedicata più di un miliardo di ricavi per una pellicola che ne è costati 55 milioni quindi un terzo dell'ultimo Spider-Man e addirittura un ottavo di Avengers Endgame che ha avuto il budget stellare di 400 milioni di dollari. Ecco io se posso fare un paragone il fatto che un film come Aquaman abbia incassato credo più un miliardo di dollari ci fa capire il livello di educazione e di cultura visiva e narrativa del pubblico di massa cioè molto basso e quindi noi dobbiamo educare una massa di gente che è abituata ad andare al McDonald's allo slow food cioè a capire le potenzialità di questi supereroi che proprio perché sono figure tematicamente universali però si meritano un livello di scrittura più alto e quindi c'è molta molta strada da fare io Aquaman l'ho trovato un film imbarazzante non so cosa ne pensa Andrea ma io l'ho veramente detestato. Andiamo a sentire da Andrea Tomaselli le differenze tra i supereroi Marvel e DC Comics. Sulla differenza tra i supereroi Marvel e DC qualcosa posso dirvi anche se lì di nuovo devo confessare che io sono stato un grandissimo lettore dei supereroi Marvel. Io da ragazzino ho letto Marvel tantissimo ma in realtà DC leggevo poco ho letto qualcosa di Superman, qualcosina di Batman e basta. Probabilmente siamo tanti, perlomeno in Italia che hanno conosciuto e frequentato molto di più i supereroi Marvel di quelli DC quantomeno da un punto di vista del numero di testate, seguite e quindi di supereroi frequentati e conosciuti. Probabilmente questo qualcosa significa, cioè si può, difficilmente puoi dire che un personaggio come Batman o come Superman sia inferiore a un personaggio come Spider-Man o come i Fantastici 4. Però certamente sul numero, quello che dico sempre della cucina siciliana, ogni regione italiana ha uno, due, tre, quattro piatti strepitosi, la cucina siciliana però ne ha 15 strepitosi. Ecco, forse è quello, cioè la Marvel è riuscita numericamente, da un punto di vista proprio della quantità di cose belle, di cose interessanti, probabilmente ha stravinto la guerra contro l'ADC. Non credo che tolta la primissima fascia, no? Appunto, Spider-Man 4 vs. Batman-Superman che Aquaman e Wonder Woman reggano il passo con gli X-Men che già è finita. Ma Iron Man, gli Avengers, io mi ricordo serie abbastanza scognite della Marvel come gli inumani o come dei tuoi difensori, non so se qualcuno si ricorda, Nottolone, Valkyria, ma erano robe, anche quelle molto molto belle. È la stessa cosa che finora è successo al cinema, signori, cioè se uno ama i supereroi può guardare tutto. Se uno però ama il cinema, i film DC buoni, finora forse ce n'è qualcuno. però ripeto, mi sembra di ricordare che uno ha detto vabbè questo non è male, però sicuramente mi ricordo bene tutti quelli veramente brutti brutti brutti, cioè un film come Aquaman è inguardabile, un film come Batman vs. Superman è obrobrioso nei 23 posti della classifica Marvel. Io all'ultimo posto ho messo l'Incredibile Hulk, in confronto a Batman vs. Superman l'Incredibile Hulk è un capolavoro assoluto. Credo che i difetti di cui parlavo rispetto alla Marvel, i limiti di investire troppo nei fetti speciali e poco nella scrittura, nel caso della DC quella roba assume delle proporzioni direi imbarazzanti. Wonder Woman è forse l'unico film DC che ho visto dicendo vabbè dai tutto sommato questo qui gira. Poi vabbè i personaggi DC hanno avuto comunque i Batman di Barton, di Nolan, però appunto sono delle produzioni altre ecco, hanno avuto quella fortuna lì, ecco no? Però se dobbiamo paragonare i film prodotti alla Marvel e la DC secondo me non c'è storia. Ascoltare le parole di Andrea mi dà una grande tristezza perché io invece ho amato molto di più i supereroi DC della Marvel perché per me Superman, Batman, Wonder Woman sono come la trinità, cioè la luce di Superman, l'oscurità di Batman sono degli assoluti. Ma la stessa Justice League, cioè Martian Manhunter, Lanterna Verde, Flash. Chiaramente i personaggi Marvel nascendo dalla controcultura, nascendo come reazione ai personaggi DC sono più sfaccettati e controversi. Dopodiché se andiamo a cercare anche dei paralleli, io per esempio amo molto l'incredibile Hulk perché incarna proprio un sentimento, cioè che è quello della rabbia, no? Che è la rabbia cieca. Quando si arrabbia Bruce Banner diventa The Hulk. Ma se ci pensiamo comunque cos'è Iron Man se non l'equivalente di Batman, cioè comunque un personaggio dotato di intelligenza superiore, risorse economiche limitate e anziché diventare uomo pipistrello diventa Iron Man. Il personaggio di Thor, che è il personaggio oggettivamente più potente dell'universo Marvel, è l'equivalente di Superman. Semplicemente la fonte del suo potere è un martello, mentre la fonte del potere di Superman è il Sole e quindi Superman è una gigantesca batteria solare. Perché su Krypton non ha i superpoteri perché Krypton è una stella diversa, sul Sole invece si ricarica e diventa onnipotente, diventa una divinità. Qual è il terzo player in questo scenario? Per me è la Image Comics e infatti io spero che un giorno incominceranno a fare i film tratti dai supereroi della Image Comics, che secondo me sono meglio di quelli Marvel e DC proprio perché arrivano con decenni dopo. È una generazione di supereroi degli anni 90. Degli anni 90, che riunisce poi tutti questi autori che non erano lasciati liberi di esprimersi alla Marvel e alla DC, come Todd McFarlane, che si inventa un personaggio come Spawn, o Jim Lee, che disegna i Wildcats, ma ci sono personaggi come Savage Dragon, Grifter, Zellot e soprattutto The Authority, che è una serie scritta da Michael Bendis, è veramente incredibile. Oppure pensiamo anche The Walking Dead, The Walking Dead è il successo che ha avuto, ma in origine è un fumetto male, è un fumetto della Image Comics, quindi chiaramente i fumetti sono decenni più avanti rispetto al cinema. Adesso è quest'idea che i supereroi devono appassionare i bambini. Secondo me è anche un po' il limite della Disney, se vediamo gli ultimi Star Wars sono film pensati più per i bambini, ma d'altronde anche noi quando eravamo bambini siamo andati a vedere i primi, quindi forse siamo noi che siamo troppo vecchi? Non credo, credo che ci sia spazio per supereroi più maturi, film più adulti e infatti la trilogia di Christopher Nolan su Batman lo conferma. E quindi mi chiedo, ma perché non ha diretto la Justice League? Perché non l'ha diretta Christopher Nolan, no? Sarebbe stata un'altra storia. Ma c'è speranza per il futuro, gli abbiamo chiesto come il cinecomic supereroistico si evolverà nei prossimi trent'anni e se è un genere esaurito, inesaurimento o inesauribile? Se devo scegliere tra esaurito inesaurimento o inesauribile, sceglierei per inesauribile, poi in realtà prima o poi si esaurirà chiaramente tra cento anni magari, ma la verità è che non siamo neanche agli inizi, cioè io sono convinto che questo genere qui, se non ci saranno degli sconvolgimenti nel sistema produttivo mondiale, non del cinema, ma proprio dell'energia elettrica dell'economia mondiale, cioè l'arrivo del CGI, del cinema digitale è perfetto per questo tipo di film, ovviamente della Marvel, ma in generale per tutti i generi che contemplano, come dire, un caddy fantastico, ultra realistico. Anche perché io non credo che più si fa un certo tipo di genere e più si consuma, io credo che più si fa un certo tipo di genere e più si arriva a farlo bene. Ho visto la serie Ragnarok su Netflix, che io trovo scritta in maniera strepitosa, è una serie che costa, non lo so, un cinquantesimo di quanto costano i film della Marvel, ma dove in realtà i superpoteri e tutte quelle cose lì vengono trattate in maniera molto più intelligente, molto più... È già un film di grande... una serie in quel caso, comunque una storia, diciamo, per immagini e suoni di grande, grande maturità. Secondo me bisogna andare lì, cioè c'è ancora... c'è tempo, c'è tempo per maturare. Io sono convinto che questa sia ancora una... sia stata finora una fase molto scolastica, a parte, diciamo, quelle poche eccezioni che ho messo in cima alla mia classifica. Finora si è trattato di una fase molto scolastica. Io credo che le cose buone devono ancora arrivare. E l'evoluzione, visto che voi mi chiedete se e come si evolverà questo cinecomic superioristico nei prossimi anni, se non è l'evoluzione proprio quella, no? Quando noi siamo bambini e ci regalano un giocattolo nuovo, i primi giorni giochiamo solo con quello. Poi dopo non c'è fra che è più niente, no? Allora, questi primi decenni di film di supereroi sono stati quella cosa lì. Cioè, immaginate voi per quanto tempo spettatori da una parte, autori dall'altra, sono stati lì fremendo di voler portare sullo schermo i supereroi, ma senza poterlo fare, no? Potevano fare limitatamente qualcosa, l'hanno fatto con Superman, il Batman di Barton, ma sempre con grandi limiti e grandi sforzi economici e produttivi. Poi è arrivata la CGI e si sono aperte le porte, non so, in massa siamo andati a fare film su... sono andati gli americani a fare film di supereroi e noi siamo andati in massa a vederli. Ed è... questa fase qui è stata quella del giocattolo nuovo. E chiaramente si voleva fare di tutto, capito? Devi fare crollare mondi, città, battaglie megagalattiche, potevi... tipo Capitan Marvel che può fare un po' il cazzo del pare, ma a un certo punto poi ogni tanto devo andare da un'altra parte, perché altrimenti non puoi fare il film, perché drammaturgicamente uno è che... Dio, non è che ti aiuta tanto a portare il film alla durata di due ore, durerebbero un paio di minuti. Fuori d'artificio, tantissimi fuori d'artificio. Perché? Se erano 40 anni che li volevi fare e quando ti avevano dato il permesso ti avevo dato i soldi per comprarteli, ne hai comprati una marea e sei stato un po' di anni a fare i fuori d'artificio. L'evoluzione sarà questa. Cioè, boh, ci siamo divertiti, ora iniziamo a diminuire i fuori d'artificio, a diminuire gli effetti speciali e iniziamo a raccontare storie. Iniziamo a concentrarci sui personaggi, iniziamo a concentrarci sulle straordinarie potenzialità metaforiche di che cosa sono i superpoteri. Ricordiamoci che forse il più grande filosofo del Novecento ha avuto il superuomo al centro del suo pensiero. Non è una roba da poco. Ricordiamoci che l'epica del Novecento, l'equivalente dell'Odissea, l'equivalente dei poemi cavallereschi, l'equivalente epica di questo nostro periodo, delle nostre generazioni, sono i supereroi. Il che significa che i supereroi possono e devono portare avanti discorsi enormi, molto più grandi e più complessi e più significativi delle piccole paranoie finora, come dire, raccontate. È quello che ha fatto la grande epica greca, l'epica medievale. Secondo me è quello che deve fare l'epica supereroistica. Ci vuole un po' di tempo, ripeto, ma l'evoluzione è lì. Anche lì da poco ho visto un'altra serie, sono in ritardo, è una serie che non è uscita adesso, io non l'avevo ancora vista, visto la prima stagia di Penny Dreadful, dove l'altra grande epica dei nostri tempi, che è quella gotica, finalmente è riuscita ad arrivare a delle profondità di riflessione, di pensiero, tematiche di un certo livello. Sono sicuro che nei prossimi 30 anni sarà quello che riusciranno a fare i film sui supereroi, cioè un po' meno spettacolo, un po' meno intrattenimento, un po' meno fuori d'artificio e un po' più ciccia. Speriamo che Andrea abbia ragione, io sono d'accordo con lui, vedo un percorso possibile, se penso per esempio a cosa è successo con il western, prendiamo anche solo la traiettoria di un regista come John Ford, che è proprio la spina dorsale del western dell'epica americana, dei cowboy, se pensiamo alla maturità che ha un film come Sentieri Selvaggi rispetto a Ombre Rosse,